buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel video di oggi andremo a vedere insieme una estensione per chrome molto simile a metamask l'unica cosa che questa volta andrà sulla tr x ceno ovvero la tron chain sto parlando di tron link wallet e andiamo a vedere il suo funzionamento dove si scarica e come si utilizza dopo la sigla siamo sulla pagina ufficiali tron link wallet raggiungibile all'indirizzo tron link punto org che cos'è proprio come metamask può essere anche un estensione un wallet decentralizzato che invece di connettersi con la biana smart chain le tir non c'è la polli di gommati in network si va interfaciale con la tr x cene ovvero la tron c nel tron ecosistema come vediamo è disponibile per android e io s google chrome tramite estensione e si può anche scansionare un qr per poterlo scaricare una volta scaricato come metamask non ha bisogno di indirizzi mail nome cognome perché è un wallet totalmente decentralizzato vi saranno fornite le solite parole soliti sid che vanno costuditi perché in caso di ripristino del wallet dovremo utilizzare proprio queste frasi che ci vengono queste parole che ci vengono fornite proprio come un normale wallet alla normale estensione per utilizzare metamask su tron chain bisogna detenere dei trx dei token tron all'interno di metamask per pagare le fee andiamo a vedere come scaricare l'estensione facilissimo si clicca su chrome web store e si va ad aggiungere l'estensione a chrome una volta aggiunta l'estensione la selezioniamo e andiamo ad aprire il wallet selezioniamo una nostra password clicchiamo su continua e vedete qua possiamo fare il restore collegarlo eventualmente allegger oppure fare create da zero se siamo di nuovi utenti in questo caso non ho il legger collegato a tron non voglio fare al restore ma voglio creare uno nuovo da zero clicco su create vado a dare il nome al wallet continuo e vado a copiare queste parole una volta copiate e messa al sicuro vi ricordo che queste sono le parole che vi serviranno per un restore nel caso perdiate l'estensione o voleste ripristinarlo su un altro computer su un altro smartphone clicchiamo su continua e andiamo a inserire le parole una volta che l'abbiamo ricopiato in ordine clicchiamo su conferma e come vedete abbiamo aperto il nostro tron link wallet prima di poter utilizzare questo portafoglio bisogna come ho detto avere di trx all'interno perché come vedete qua io bandwish 0 energy 0 perché non ho nessun tron all'interno del wallet queste due voci sono importantissime perché la bandwish è la banda ovviamente el energy e quanta energia c'è per convalidare una transazione quindi dobbiamo assolutamente avviere dei trx all'interno del portafoglio se no le funzioni le funzionalità sono pari a zero supponiamo di voler ricevere dei tron va è facilissimo basta andare su receive ci viene generato l'address andiamo ad esempio su binance e selezioniamo tron e ce li inviamo direttamente a questo indirizzo mi raccomando qualsiasi valuta qualsiasi token che deve andare nel vuole troll link deve girare sulla blocce di tron quindi trc 20 token una volta che i tron sono arrivati all'interno del nostro portafoglio non basta tenerli fermi per avere bandwish ed energy ma bisogna andare su frizz clicchiamo su frizz atterriamo su tron scan e andiamo a bloccare dei tron ne bastano veramente pochi noi andiamo bloccare dei tron come se fossero staking e in cambio tron la blocce di tron ci dà la banda la bandwish e l'energia ovviamente i tron che noi andiamo a bloccare poi ci vengono restituiti questo caso io zero tron quindi qua vi da zero ma nel caso avesse un numero di tron sufficienti li potrei bloccare li potrei frizzare e qua in cambio io 3 energia e bandwish potrei tenerlo quanto voglio per quanto mi serve utilizzare tra link al termine di questo periodo posso richiedere indietro i miei tron qualora avessimo fondi sufficienti per bloccare i tron e avere energy oppure bandwish basta solo anche un tron possiamo andare su ottenere e andare a bloccare i nostri token una volta bloccati si torna sul portafoglio e quasi vedrebbe l'incremento della bandwish e dell'energia diamo nel dettaglio come si fa trasferimento da bainas allora clicco su tron link inserisco la password a protoron link clicco su ricevo copia account mi sposto su bainas prelevo in questo caso devo prelevare cripto valute devo prelevare trx tron eccolo qua inserisco l'indirizzo che ho appena copiato lo vado a incollare vedete che mi dà in automatico trc 20 tron inserisco la quantità metto massimo 5 tron tanto devo solo fare una prova per farvi vedere come funziona il congelamento clicco su prelevo confermo e vado ovviamente a compilare il form transazione inviata attendo il process in perfetto dovrebbero essere arrivati eccoli qua 4 tron per su cinque perché una la commissione vado a cliccare freeze clicco su ottieni e posso scegliere tra la bandwish e l'energia vado a selezionare l'energia inserisco un trx che il minimo che si può congelare clicco su confermo e vado su frizz accetto la transazione token frozen vedete che qua ho un trx bloccato quindi congelato e ho 27 di energia ma da riclicare sulla mia estensione di troll link e come vedete il 27 di energia è esattamente quello che trovo su tron scan e qua il mio bandwish perché il bandwish era già aumentato perché avevo inviato 5 trx all'interno del portafoglio e vedete qua il valore dei miei 4 trx se volessi in questo caso riavere i miei trx su bainas faccio l'operazione contraria vado su bainas deposita deposita cripto vado a selezionare trx perché io voglio ricevere trx in questo caso vado a vedere che si è selezionato trx 20 ottengo l'address lo copio mi sposto solamente estensione sand incollo l'address coppia accoppiato da bainas e vado a inserire il massimo che posso ricevere ovviamente un trx è bloccato quindi potrei ricevere solo 3 trx metto massimo mi conta anche la fi quindi andrò a ricevere 2.9 trx invio accetto e in pochi minuti la mia transazione sarà registrata sulla bloccine di tron e riceverò i miei trx all'interno di bainas all'interno di questo portafoglio possiamo tenere anche altri cripto valuta addirittura anche bitcoin e possiamo anche convertire tron in alte cripto valute cliccando su swap si apre la schermata dove noi possiamo andare a convertire i nostri tron per qualsiasi altro token in qualsiasi alta cripto valuta cliccando su dapp noi possiamo andare a interagire con queste applicazioni decentralizzate che usano tron come motore una differenza con ad esempio meta maschè che è possibile visualizzare l'importo delle nostre valute in dollari cliccando su setup possiamo andare a cambiare le impostazioni del nostro portafoglio per poter ripristinare eventualmente un portafoglio basta cliccare sul nome e il portafoglio appena cliccato si può andare su create un altro wallet all'interno di tron my net il restore oppure collegarlo con l'hardware wallet mi raccomando solo sottolineo ogni volta che dovete inviare delle cripto valuta all'interno di questo wallet sarà trc 20 quindi la blockchain di tron bene ragazzi siamo arrivati alla fine del nostro consueto appuntamento spero che il video sia stato di vostro gradimento e di facile comprensione vi invito ad iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto di unire la nostra community telegram di lasciarmi un like ed attivare la campanellina noi ci vediamo domani ciao